Benvenuti a questa lezione, il cui argomento è lo studio del prodotto. Gli argomenti principali riguardano progettare e riprogettare il prodotto, il ciclo di vita del prodotto e il progetto di un servizio. Come ricorderete, nelle lezioni precedenti abbiamo più volte indicato il fatto che l'attività di un impianto industriale o sistema di produzione possa essere rivolta sia alla produzione di beni fisici, quindi beni tangibili, sia al tempo stesso anche di beni non fisici, beni intangibili come per esempio l'erogazione di un servizio. Dal punto di vista dello sviluppo del progetto e della realizzazione del progetto, pertanto realizzare un impianto industriale così come noi comunemente lo intendiamo, per esempio uno stabilimento produttivo, un'officina, non è per nulla differente rispetto come processo logico alla progettazione per esempio di un ospedale, dove ovviamente stiamo parlando di un altro tipo di produzione perché nel caso dell'ospedale parliamo di un servizio che riguarda la nostra salute, parliamo infatti di un servizio sanitario. Però sotto il profilo della progettazione della logica le due cose sono del tutto simili, pertanto in questo corso noi trattiamo sia il caso appunto in cui l'oggetto della produzione sia un bene fisico, sia quello in cui l'oggetto della produzione sia un servizio e in questa lezione appunto approfondiremo alcuni aspetti relativi a queste situazioni. Partiamo con la progettazione e la riprogettazione di un prodotto. Perché noi progettiamo o riprogettiamo i prodotti? Lo facciamo essenzialmente perché il mercato ha una propria dinamica. Le esigenze dei consumatori sono ovviamente sempre mutevoli, quello che un tempo poteva essere visto come un prodotto che soddisfaceva le esigenze dei consumatori di allora, oggi potrebbe tranquillamente non essere più adeguato. Basta fare un esempio su tutti, un esempio quotidiano, pensiamo alla produzione dei telefoni cellulari. Il telefono cellulare di prima generazione ovviamente oggi non potrebbe trovare nessun tipo di consumatore o di cliente perché le esigenze del consumatore sono grandemente cambiate. Ma lo stesso esempio del telefono cellulare è anche legato al fatto che le nuove tecnologie che si sono via via facciate hanno consentito ovviamente di sviluppare questi prodotti e di stimolare anche la nascita di nuove esigenze. Pertanto le richieste dei consumatori evolvono anche perché ci sono nuove tecnologie offerte e sviluppate che stimolano appunto la nascita di queste nuove esigenze. E non ultimo sono sempre di più le imprese che sono interessate a entrare in certi segmenti del mercato e ovviamente a competere all'interno di questo mercato. Quindi noi abbiamo a che fare con un panorama, un insieme di clienti o di consumatori da esigenze mutevoli in cui costantemente vediamo spuntare e profilarsi nuove tecnologie applicative e una competizione del mercato che è sempre crescente. Questi tre punti li possiamo quindi idealmente considerare come il vertice di un triangolo e sono quindi tra loro collegati perché è l'insieme di questi tre fattori che determinano appunto una certa evoluzione del mercato che spinge verso la realizzazione di prodotti sempre nuovi o nuovi prodotti o prodotti che devono essere riprogettati per andare incontro a nuove esigenze. Quindi questo elevato numero di prodotti diversi deriva da questa dinamica combinata dall'influenza di più fattori. Sono necessari prodotti pertanto sempre nuovi per poter competere e poter quindi stare a galla in un'economia che è sempre più dinamica. Gli esempi in questo caso potrebbero essere veramente tantissimi. Prima ho fatto il caso della telefonia ma pensiamo a un altro prodotto col quale condividiamo una gran parte del nostro tempo. Pensiamo all'automobile, è chiaro che le automobili che oggi troviamo sul mercato sono neanche lontano parenti delle automobili per esempio che vedevamo in altre epoche come quelle del boom economico degli anni 60 e non sono certamente le stesse automobili che vedremo da qui a pochi anni perché cambierà sicuramente quel settore per via dell'introduzione di nuove tecnologie. Pensiamo solamente al passaggio dai combustibili tradizionali all'elettrico che è la nuova frontiera verso il quale ci stiamo muovendo. Quindi tutto questo per indicare che è necessità da parte delle aziende quella di dovere sempre avere un portafoglio di prodotti sempre evoluto, sempre aggiornato in cui ci sia costantemente l'evoluzione del prodotto esistente e la ricerca di prodotti sempre nuovi. Questo se vogliamo competere all'interno del mercato. Chi non fa questo probabilmente è destinato a uscire. Gli obiettivi della riprogettazione e della modifica dei prodotti possono essere comunque notevoli. Possiamo avere la necessità per esempio di riprogettare un nuovo prodotto per conservare le risorse, per esempio i materiali che in questi prodotti sono impiegati. Pensiamo per esempio nel caso dei computer, dei computer per uso personale in cui cerchiamo di riutilizzare e conservare certi materiali che già utilizzavamo in prodotti precedenti ma usarli in maniera molto più efficiente. Riprogettiamo un prodotto perché pensiamo di dover ridurre il consumo di energia. Qui direi che il caso dell'automobile è quanto mai eclatante. Cerchiamo sempre automobili che siano in grado, o motori che siano in grado di consumare sempre meno carburante. Quindi cerchiamo di sviluppare questo prodotto per termini conservativi di energia, così come possiamo anche riprogettare un nuovo prodotto per migliorare la sicurezza. Tutti i sistemi che adesso troviamo sui nostri automobili di protezione sia attiva che passiva, quindi segnalazioni acustiche o segnalazioni visive, un tempo non c'erano e ci dobbiamo aspettare in futuro di vederne sempre di più. Riprogettiamo un prodotto anche per ampliare le funzioni. Una volta avevamo per esempio delle macchine fotocopiatrici con le quali era possibile unicamente utilizzare e fotocopiare i documenti, ma adesso con la stessa macchina fotocopiatrice facciamo molte più cose. Spediamo dei PDF tramite post elettronica, archiviamo dei file, quindi ampliamo le funzioni del nostro prodotto. È necessario quindi una procedura proprio di continuo miglioramento nel processo di sviluppo di nuovo prodotto per ridurre i costi, per ridurre i rischi e per migliorarne le prestazioni. Le aziende che non si affidano a una procedura in qualche maniera standardizzata, corrono il rischio a volte di non perseguire questo obiettivo, cioè lasciare lo sviluppo di nuovi prodotti a una procedura, ci chiamiamola contingente, non istituzionalizzata, espone l'azienda stessa al rischio di non centrare l'obiettivo. Tutte le aziende nel limite delle proprie capacità cercano sempre di avere un portafoglio di prodotti, un mix produttivo il più ampio e diversificato possibile. Abbiamo aziende che per esempio storicamente si occupano di un prodotto ma in parallelo portano avanti anche produzioni su settori non necessariamente così affini al prodotto iniziale. Potrei fare il caso di aziende per esempio che operano nella realizzazione di impianti per la produzione di prodotti da rivestimento che al tempo stesso hanno anche linee di sviluppo di produzione per l'imbottigliamento o al tempo stesso linee di produzione per sistemi per la grande distribuzione. Penso per esempio alle casse dei supermercati. Perché le aziende mettono assieme tutti questi diversi tipi di prodotti? Lo fanno essenzialmente per un motivo, quello di proteggersi dalla decadenza di brevetti, il fatto di potersi anche difendere da una competizione sempre più guerrita che potrebbe su certi ambiti essere particolarmente feroce per tanto erodere delle quote di mercato e anche per poter essere aggiornate e pronte a rispondere nel caso appunto della comparsa di nuove tecnologie di produzione. L'immagine che vedete qui riportata è il riassunto di questo atteggiamento. Le aziende diversificano la propria produzione perché essenzialmente tendono a non mettere tutte le uova in un unico paniere, ovviamente esponendosi così al rischio di caduta del paniere con conseguente rottura di tutto il suo contenuto. Se noi riusciamo a diversificare i nostri prodotti, quindi a collocare le uova in più panieri ecco che ci proteggiamo meglio dai rischi di un mercato che diventa sempre più agguerrito e sempre più competitivo. Come spunto di riflessione possiamo allora chiederci quali sono le principali motivazioni per la riprogettazione o la modifica dei prodotti che sono oggetto appunto dell'attività di un impianto industriale. Questi prodotti vengono anche riprogettati e vengono anche costituiti nel tempo con prodotti nuovi in quanto ogni prodotto è soggetto a un proprio ciclo di vita esattamente come succede a noi poveri esseri umani attraversiamo la nostra esistenza attraverso diverse fasi di vita che ovviamente sono caratterizzati da situazioni ben diverse e la stessa cosa la possiamo ovviamente riferire, applicare ai nostri prodotti. Se noi guardiamo pertanto come evolve un prodotto nel tempo possiamo controllare e verificare questa evoluzione in base a diversi elementi, per esempio potremmo subito considerare l'evoluzione del fatturato prodotto realizzato da questo prodotto o da un certo tipo di produzione nel tempo. Con l'evoluzione ovviamente del prodotto cambia anche l'evoluzione del fatturato e possiamo distinguere quindi diverse fasi di questo ciclo di vita. Quella che vedete è appunto la curva che rappresenta in generale l'andamento del fatturato nel tempo, quindi come adesso vedremo da una parte iniziale si ha poi una fase di sestamento e poi un'inevitabile fase di rallentamento, distinguibile però in fasi che possiamo riconoscere in questo modo. Quando un prodotto viene lanciato sul mercato abbiamo una prima fase di introduzione, è una fase in cui il prodotto, particolarmente poi quello che succede per i prodotti particolarmente innovativi, ha bisogno di un po' di tempo per farsi conoscere dal mercato pienamente, perché ovviamente ci sono sempre i consumatori più attenti al lancio di nuovi prodotti ma non tutti i consumatori hanno lo stesso tipo di proteggiamento, per cui c'è bisogno di un po' di tempo per far sì che il prodotto venga conosciuto e in questa prima fase di presa di contatto con il prodotto nuovo, in questa fase di introduzione il fatturato comincia ad aumentare ma con un ritmo di crescita inizialmente un pochino rallentato proprio perché c'è bisogno di fare conoscere questo prodotto. Quando poi il prodotto ha trovato una buona risposta da parte del mercato e quindi ha superato questa fase, questa barriera di introduzione e di conoscenza, entriamo in quella che è la vera e propria fase di crescita, quindi è la fase di pieno apprezzamento di questo prodotto, la chiamiamo appunto fase di crescita in cui vediamo anche un'impennata del fatturato molto più decisa rispetto alla fase precedente di introduzione, quindi il fatturato aumenta, aumenta in maniera molto rapida perché il prodotto è conosciuto dal mercato ed è apprezzato dal mercato, trova quindi un'ottima collocazione. A seguire abbiamo invece la fase in cui il prodotto ormai già presente sul mercato da qualche tempo, già quindi ben conosciuto, trova una sua fase di assestamento, è la fase che noi indichiamo come fase di maturità del prodotto. È una fase di maturità in cui il prodotto appunto come dicevamo è un prodotto che ha delle funzioni ormai riconosciute come funzioni standard, è presente sul mercato, ha dato una buona risposta, ha ottenuto un gradimento da parte del mercato, ma se appunto il prodotto rimane come lo abbiamo conosciuto, questo apprezzamento ovviamente tende prima a stabilizzarsi, come vediamo da questa curva, qui raggiunge un po' l'apice, il fatturato e poi inevitabilmente ecco che cominciamo a entrare verso una fase di, chiamiamolo inevitabile, invecchiamento. Vediamo il fatturato che comincia a calare anche perché nel frattempo, non dobbiamo dimenticarci che dietro a questo prodotto c'è un impianto industriale, un sistema di produzione che nel tempo comincia a perdere un po' di efficienza. Quindi il fatturato comincia anche un pochino a risentire dell'aumento inevitabile dei costi di produzione di questo prodotto per via dell'invecchiamento anche del sistema di produzione e quindi ha giustificato questa parte, la nostra curva, in cui nella fase di maturità vediamo prima il raggiungimento del massimo del fatturato e poi un calo, comincia il calo che precede la fase di vero e proprio declino, la fase inevitabile di invecchiamento in cui mentre prosegue l'aumento dei costi di produzione dovuto alla perdita di efficienza del sistema di produzione originario, anche lo stesso prodotto comincia un po' a uscire dal mercato perché nel frattempo subisce la concorrenza di prodotti nuovi, riprogettati con nuove funzioni come abbiamo detto prima e quindi il fatturato è destinato a uscire e a calare rispetto al tempo. Il prodotto piano piano esce dal mercato. Queste sono le quattro fasi pertanto del nostro ciclo di vita, la estensione relativa, cioè la relativa di queste fasi chiaramente può essere diversa, passando da prodotto a prodotto, cioè se sono prodotti in cui la fase di produzione potrebbe essere più o meno compressa, così come anche le fasi di maturità e ovviamente questo in funzione di com'è l'andamento del mercato e soprattutto a qual è anche la comparsa di prodotti concorrenti sullo stesso mercato. Oltre però a questa classificazione, a questa visualizzazione, possiamo anche vedere uno stesso andamento del ciclo di vita, però anziché guardare al fatturato complessivo, guardiamo l'utile unitario, ovvero qual è l'utile che ogni unità di prodotto che noi realizziamo porta nelle casse dell'azienda che lo ha realizzato e in questo caso il ciclo di vita misurato guardando l'utile unitario e il fatturato presenta sempre le stesse quattro fasi di prima ma ha un andamento differente. Questa è la curva che rappresenta appunto l'andamento dell'utile unitario in cui possiamo vedere che nella fase di introduzione l'utile unitario cresce con un andamento simile a quello del fatturato perché il prodotto che entra nel mercato contribuisce unitariamente in maniera un pochino più significativa rispetto al fatturato globale, la vera crescita ce l'abbiamo appunto nella fase 2, quella di crescita vera e propria, abbiamo l'impennata del fatturato, dell'utile unitario mentre la differenza maggiore rispetto alla curva precedente l'abbiamo nella fase di maturità dove come potete notare il massimo di utile unitario lo si ottiene proprio a cavallo tra la fase di crescita e la fase di maturità mentre l'utile del fatturato globale nel caso precedente era un pochino più ritardato nel tempo e quindi invece molto più marcato è il decremento dell'utile unitario già nella fase di maturità seguito anche nella fase di declino e questo è una ripercussione come dicevo anche precedentemente della perdita di efficienza del nostro sistema produttivo, l'utile unitario quello che l'azienda ricava dal piazzamento del proprio prodotto sul mercato è molto più marcato nella fase di maturità rispetto al fatturato globale e quindi possiamo commentare che l'andamento del ciclo dell'utile di un prodotto è molto diverso rispetto a quello del fatturato in particolare nelle fasi di maturità e di declino. Vedremo poi nelle lezioni successive quali sono i motivi per cui si ha questo effetto. noi possiamo in qualche modo pilotare come dicevo le durate di queste fasi ma ovviamente dentro certi limiti per esempio la fase di introduzione quindi la fase di conoscenza del prodotto nel mercato può essere ristretta, può essere accorciata attraverso delle campagne di pubblicità, campagne di marketing molto marcato, molto arrembanti oppure creando dei sistemi di distribuzione del prodotto più efficienti in modo tale che il prodotto possa raggiungere il consumatore prima rispetto ad altri prodotti quindi o attraverso una campagna di pubblicità o attraverso una distribuzione più efficiente noi cerchiamo di comprimere la presa di contatto del cliente con il nostro prodotto quindi di comprimere la fase di introduzione. La fase di crescita può essere a sua volta accelerata come? Cercando di esplorare anche delle fasce di mercato che siano addizionali, aggiuntive rispetto alla fasce di mercato che ci poniamo come primo obiettivo quindi cercando di estendere il bacino dei possibili clienti oppure possiamo anche promuovere delle campagne di sconto abbassando il prezzo dei prodotti o lanciare ulteriormente delle campagne di vendita più efficaci cioè invogliare questa presa di contatto da parte del consumatore attraverso delle campagne di comunicazione un pochino più pressanti per cercare anche qui di comprimere la fase di crescita. La fase di motorità in genere può essere modificata anche radicalmente grazie a miglioramenti del prodotto oppure per esempio rinnovando la confezione e il confezionamento oppure rivitalizzandolo attraverso delle nuove funzioni o anche a volte qualche piccolo maquillage un po' di ammodernamento anche dell'estetica del prodotto stesso. Lo scopo ovviamente è quello di rimodellare il ciclo di vita in modo da, se possibile, ritardare per quanto possibile appunto il declino e la fine del prodotto. Quante volte per esempio abbiamo visto campagne pubblicitarie offerte da case automobilistiche in cui un modello di automobile già noto, magari di successo, però già noto da qualche tempo viene riprodotto con particolari versioni o particolari modelli che non hanno nulla di diverso come funzione rispetto al prodotto originario ma hanno magari un'estetica un pochino aggiornata in modo da poterle prolungare la permanenza sul mercato. Oppure un altro esempio che potremmo fare pensando alla confezione, la confezione di un prodotto è un altro elemento, un altro veicolo diciamo di rivitalizzazione del prodotto molto importante, per esempio nel settore cosmetico, nel settore profumiero, uno stesso prodotto può essere riproposto sul mercato con una confezione diversa in modo tale che il consumatore abbia la percezione di un qualcosa di cambiato in questo prodotto che possa estenderne la propria permanenza sul mercato stesso. Gli spunti di riflessione che possiamo dedicare a questa parte sono i seguenti. Da quali fasi allora è composto il ciclo di vita del prodotto e quali sono le principali caratteristiche che possiamo attribuire a queste fasi viste, come abbiamo detto, sotto più aspetti, per esempio quello del fatturato o quello dell'utile unitario. Ma come detto all'inizio, non soltanto di automobili o telefoni cellulari o profumi o altro possiamo parlare, noi possiamo anche parlare di servizi offerti a un mercato. Prima ho fatto l'esempio di un ospedale pensando appunto al servizio sanitario, ma ovviamente di servizi potremmo averne tanti esempi, potremmo pensare a un servizio offerto da una società di trasporti o un servizio offerto da una compagnia assicuratrice o i servizi offerti dagli istituti di credito e così via. Anche questi sistemi di produzione che sono deputati a offrire questo tipo di prodotto vengono progettati, come dicevamo, con le stesse logiche con le quali noi progettiamo le officine meccaniche o i prodotti per la produzione del tessile e così via. Come abbiamo detto più volte, per servizio si intende un bene non tangibile, quindi un prodotto intangibile. Al concetto di servizio dobbiamo abbinare un altro concetto che è quello di livello di servizio, ovvero la capacità dell'azienda di soddisfare una certa richiesta dei clienti. Quando per esempio noi ci poniamo con l'obiettivo di progettare, come dicevo, per esempio un servizio mensa, dobbiamo anche fissare qual è l'obiettivo, almeno progettuale, di questo servizio, qual è il livello di servizio che noi vogliamo quantomeno inseguire. Nel caso di servizio mensa potremmo dire quanti coperti vogliamo essere in grado di offrire, per esempio una fascia più critica, che potrebbe essere quella del pranzo, a potenziali clienti. Quindi quando si parla di servizio bisogna sempre abbinare anche il concetto di livello di servizio. Come ho detto, qui riprendiamo questi esempi, appunto una mensa, un ospedale, una banca, ma anche una sala cinematografica, una stazione di lavaggio, sono tutti esempi di aziende fornitriti di servizio. Ovviamente questo non è un elenco esaustivo, è soltanto un esempio, un elenco di possibili esempi che potrebbe essere tranquillamente esteso ed ampliato. Progettare il servizio comporta in questo caso determinare il numero di persone e o di attrezzature che sono necessarie per soddisfare le richieste della clientela, cioè per centrare, come dicevamo, quell'obiettivo di livello di servizio che è un obiettivo del progetto del nostro impianto esattamente come lo è il servizio. Quando parliamo dell'obiettivo del dimensionamento ottimale di un servizio, intendiamo il fatto che occorre capire qual è il compromesso tra l'esigenza di non fare attendere l'unità di servire e quella di non lasciare inattive le attrezzature o le persone costituenti il servizio. Facciamo subito un esempio molto semplice e molto banale. Prima mi riferivo ad una mensa, in una mensa ovviamente noi ci attendiamo di avere dei clienti che si rivolgono a questa mensa per poter usufruire di un servizio di ristorazione e ovviamente noi dobbiamo avere un certo numero di persone e di attrezzature che sono in grado di erogare questo servizio, quindi avremo una cucina con determinate attrezzature destinate appunto a questo tipo di attività e avremo ovviamente le persone che lavoreranno nella cucina o che potranno servire per esempio ai tavoli. Noi dobbiamo dimensionare questo servizio cercando sempre di avere un giusto compromesso tra la situazione in cui un cliente che si presenta e chiede il servizio potrebbe rischiare di non trovarlo perché in quel momento il sottodimensionamento delle persone coinvolte o delle strutture in cucina potrebbe non essere in grado di rispondere a quella domanda, quindi abbiamo in questo caso un rischio di sottodimensionamento del servizio, ma al tempo stesso dobbiamo stare poi attenti a non esagerare dall'altra parte, cioè a non creare una cucina con troppe attrezzature o un numero di persone coinvolte eccessivo, tale per cui molte di queste attrezzature o una parte di queste attrezzature oppure molte di queste persone o una parte di queste persone potrebbero risultare inattive per un lungo tempo di apertura della nostra messa per mancanza di clienti, quindi occorre sempre trovare il giusto compromesso tra queste due esigenze, ecco perché prima parlavamo di servizio e livello di servizio, le due cose vanno commisurate attentamente perché bisogna cercare di calibrare questo obiettivo, è un compromesso, la soddisfazione del cliente e il dimensionamento e quindi anche l'impegno in termini anche di investimento che dovrebbero sostenere per poter inserire le attrezzature e le persone che devono erogare questo servizio. Proprio per cercare di non sbagliare nella progettazione di questo servizio è buona norma in particolare quando appunto si parla di progettazione di un service o di un servizio quello di creare una mappa descrittiva, cioè cerchiamo di immaginare come il nostro servizio potrà essere richiesto e come potrà anche essere erogato, è quella che in gergo tecnico viene chiamata una blueprint, cioè una sorta di prima idea, un primo schema attraverso il quale cerchiamo di capire come noi possiamo essere in grado di erogare questo servizio e come. Quindi le fasi tipiche di questo blueprint sono una prima identificazione del processo da mappare, chiaramente i primi ad avere le idee chiare su come questo servizio dovrà essere erogato dobbiamo essere noi progettisti stessi, quindi cerchiamo di descrivere questo processo in un modo molto preciso, dettagliato, creandoci una specie di mappa logica per poi anche cercare di identificare qual è il potenziale cliente che chiederà questo tipo di servizio che potrà richiedere questo tipo di servizio, quindi abbiamo una sorta di identificazione del cliente o di un segmento di mercato, un segmento di clientela al quale puntare. Chiaramente le caratteristiche del cliente possono incidere grandemente sulla modalità di organizzazione del nostro servizio e quindi dobbiamo anche mappare il nostro processo non soltanto per come la vediamo noi dal punto di vista di coloro che offriranno il servizio del loro grano, ma anche dal punto di vista di colui che se lo deve ricevere, quindi dal punto di vista del cliente, è una sorta di doppia mappatura molto importante perché dobbiamo cercare di vederla da entrambi i lati. Ed infine anche un terzo punto di vista che è bene inserire in questo blueprint è quella di mappare il nostro processo dal punto di vista del personale di contatto con il cliente, perché in molti casi appunto noi abbiamo un contatto che è intermediato dalla presenza di personale, quindi anche le azioni del personale possono avere una grande influenza sulle modalità di organizzazione del servizio e sulle modalità di soddisfazione del cliente, quindi è bene mappare il nostro servizio anche sotto questo profilo. Pertanto possiamo avere come spunto di riflessione il seguente, quale obiettivo occorre perseguire nel dimensionamento di un servizio opportunamente mappato secondo le diverse prospettive che prima abbiamo citato. Passiamo quindi al riepilogo allora degli spunti di riflessione che sono i seguenti. Quali sono le principali motivazioni per la riprogettazione o la modifica dei prodotti? Da quali fasi è composto il ciclo di vita del prodotto e quali sono le principali caratteristiche di queste fasi? Quale obiettivo occorre perseguire nel dimensionamento di un servizio? Come sempre vi ricordo che per approfondimenti è disponibile il portale del corso. Arrivederci dunque alla prossima lezione.